Come se non si rende la differenza? Come si prende la differenza? Come si prende la differenza? Come si prende la differenza? Dovremo agitare la differenza tra le persone, perché la differenza genera dei design, la differenza genera di qualcosa che è innovativo, la differenza genera di miglioramento, e se non avessi accettato questo, non siamo così smarti. Tutti i nostri compagni sono stati fondamentali 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 con l'innovazione e tradizione Io vivo in un paese che si chiama Brianza che si trova tra Milano e Como Quando c'è la craftsmanship delle persone si possono fare qualcosa che è incredibile con le mani Quindi anche per i nostri clienti hanno un'idea di qualcosa che è tale made e noi costumiamo e produriamo qualcosa per loro Quindi per noi la soluzione è la combinazione tra l'innovazione e l'innovazione significa qualcosa che aiuta a migliorare la qualità e a spedare il processo e a dare un servizio per i nostri clienti E per tradizione i nostri compagni e i miei colleghi che si possono creare i nostri prodotti specifichi in una bestiazione Come si potrebbe sviluppare come fare un'intensità a tutti i nostri clienti e il nostro prodotto Come si potrebbe avere un'intensità al fatto di fare un'intensità Inoltre Come si potrebbe essere un'intensità Tre anni Abbiamo iniziato Come fare un'intensità la nostra strategia e pensiamo di creare la capacità di sviluppo di sviluppo di sviluppo che ha molti soli. Per esempio, il nostro nuovo sofà è un sofà che ha tre soli in un cuore. Quindi, uno è il Viu, per esempio, designato da Laviani, ma è potuto avere diverse soli perché possiamo avere una piattaforma in wood, completamente upholzata. Quindi, il nostro cliente è l'idea che può creare le loro loro forme, configurazione e layout per la casa. E, per esempio, ogni volta che abbiamo iniziato con un brief per il design, e abbiamo il brief per me, i miei ragazzi, gli architetti, ci vediamo cosa è per noi, la visione, perché anche il designer ha bisogno di rispondere a quello che vogliamo fare, perché Frigerio ha bisogno di trovare il nostro stile, il nostro soluzione. Il futuro è una questione per tutti, per tutti gli altri. Ma, se pensi per la mia generazione, abbiamo iniziato in 2008 con Le Mane e Brothers, perché abbiamo avuto una crisi. E, dopo 4 anni, l'economia è iniziato a crescere, ma il Covid è arrivato. Il Covid è ancora qui, è ancora presente, ma, inoltre, ha avuto molte aspetti. Ma, per il nostro mondo, per il nostro economico, per il nostro business, è buono, perché le persone restano a casa e le scopere cosa è la bellezza della casa. Quindi, si capiscono, si capiscono, si capiscono, si investono in quanto riguardano le quali, la bellezza della casa, le dettagli, e così. Quindi, per la mia generazione, è vero che è molto difficile. Ora è una guerra, lo conosco molto bene. E' difficile vedere cosa posso evitare in futuro, perché non lo conosco, perché non lo conosco, perché non lo conosco. Ma, una cosa è vero, è che abbiamo avuto il nostro meglio, con la mia compagnia, per produrare la migliore qualità e la migliore prodotti, che spero di soddisfare il cliente. La curiosità, la principale è curiosità. se siete curiosi su alcuni temici, come un designer, come un ingegnere, qualsiasi che vogliono, se siete curiosi su un tema, siete in amore con questo tema, e dovete seguire e credere in ciò che stiamo facendo. Quindi, il designer dovrebbe credere su quello che pensano, sui prodotti, anche se fosse una tavola, anche se fosse una tavola, dovete pensare sulle esperienze, dovete essere curiosi, dovete accettare alcune buone informazioni, che dovrebbero accettare alcune buone informazioni, ma al fine del giorno non ci renderemo e dovremmo credere in noi stessi. E spero che dovremmo mantenere l'aspetto nostro bambino. e di più e di più che le le le